Caterina Domenichini, giovane esponente di Forza Italia, è candidata al Consiglio regionale dell'Umbria a sostegno di Donatella Tesei. Caterina, perché candidarsi e con quali prospettive e progetti in particolare per l'Alto Tevere? Le motivazioni sottese alla mia candidatura sono ben precise, focalizzandomi in particolare su tre tematiche, sui giovani, sul turismo e sulle infrastrutture. Sui giovani perché in primis faccio parte di questa categoria di persone, in secundis perché di fatto siamo noi gli adulti del domani. Quindi secondo me incrementare molto le politiche giovanili, incentivando il diritto allo studio e il lavoro in sé per sé considerato, e permetterebbe appunto ai giovani di costruire qui il loro futuro e non migrando altrove. In secondo luogo ritengo molto importante il tema delle infrastrutture, in particolar modo noi di Forza Italia riteniamo che la costruzione del tratto di superstrada E78 sia di fatto necessaria per garantire una connessione non solo fra le zone di Mitrofa, Città di Castello, ma anche fra le regioni. Ultimo punto, ma non per importanza, è quello del turismo, promuovendolo digitalmente visto che di fatto viviamo nell'era dei social, ma anche magari offrendo il cosiddetto turismo esperienziale, intendendo la possibilità di sponsorizzare e fare dei veri e propri workshop artigianali connessi a tutte le attività appunto che caratterizzano la nostra città, permettendo anche la visita alle botteghe locali che appunto sono parte del nostro patrimonio storico. Grazie 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 Grazie